Sarà la Meridiana Orientale a prendere la gestione del porto di Francavilla dopo la manifestazione di interesse a cui avevano risposto oltre 20 ditte. L'inaugurazione dell'infrastruttura è prevista all'inizio di giugno. Meridiana Orientale gestisce già due strutture nautiche, una a Marina del Sole a Chioggia in Veneto e l'altra a Rodi Garganico in Puglia. Tra tutti gli interventi che ha proposto per la gestione del porto spiccano l'installazione di un sistema radio VHF della portata di 20 miglia nautiche dalla costa e un'imbarcazione idrojet per otto persone adatta anche al train Odena e tanti in panne, oltre che al recupero degli oggetti caduti e alla pulizia dello specchio d'acqua antistante il porto. A questo si aggiungono due barche e un catamarano da mettere a disposizione di chi vuole avvicinarsi alla nautica, corsi di vela, navigazione e subacquea, con istruttori riconosciuti dalle federazioni, ed eventi fieristici di carattere nazionale ed internazionale. In più è prevista l'attivazione di una coprogettazione con la partecipazione di pescatori e cittadini. Proprio la piccola pesca avrà riservati 19 approdi sui 76 disponibili. Il contratto di gestione avrà durata di un anno con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il comune di Francavilla contribuirà con 150.000 euro, i quali potranno essere poi recuperati grazie agli introiti degli affitti dei posti barca, che finiranno nelle casse dell'ente. A tal proposito, a breve, sarà disponibile il tariffario che dovrebbe prevedere tre fasce a seconda della grandezza dell'imbarcazione.